Simulazione di inceppamento Qualora la multifunzione si inceppi durante il lavoro di stampa o copiatura, è possibile che l'utente debba eliminare più fogli all'interno della macchina. Premesso che il display offre tutte le indicazioni per la rimozione dei fogli inceppati, il consiglio principale è quello di individuare e utilizzare le leve o le maniglie di colore verde, come mostrato nel video.